Perì, ce ne devi andare. No, 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 dai, puoi andare sul motorino, ci vuole il casco. Perì ci sali. No. Rocambolesca fuga di due pazienti dalla casa di cura Santa Margherita di Minervi. Fa il culo il dottore! Fa il culo le pillole! Dici ma fa il culo a qualcuno, dai! No, le parlacce, no. Fa il culo! Dai! Di, di sgraziati! Io so dove andiamo. Andiamo a trovare mia mamma. Ovele, qua è pieno di femmine, pensi la tua mamma. Ah, italiano? Sì. Ciao, bello! Sì. Ma fa un culo! Tu sei la donna più bella che io abbia mai visto dalla mia vita. Grazie, sei gentile. Di che, figurati. Questa qui è proprio la mia mamma. Tua madre è morta! Morta! Stop! Parise! No, te non sei più il mio amico. Tu hai un unico amico e solo io. L'Islanda. E mo? Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? Scaricate le nostre app, Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuito. Ciao!